Ciao a tutti, oggi prepareremo il riso basmati con piselli e carote. Il tempo di preparazione della ricetta è di 35 minuti circa. Gli ingredienti sono riso basmati, acqua, sale, pisellini surgelati, carote tagliate a pezzetti, sale, pepe, noce moscata e olio evo. Diamo il alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, un cucchiaino di sale, chiudere con il coperchio, condire i pisellini e le carote con il sale, pepe e la noce moscata. Posizionare il varoma, chiudere con il coperchio ed azionare il bimbi per dieci minuti, temperatura varoma, velocità 2. posizionare il cestello con il riso, muovere i bicchi con una spatola, chiudere con il coperchio, riposizionare il varoma con i piselli e le carote e cuocere per venti minuti, temperatura varoma, velocità 2. le verdure sono cotte, trasferire in una ciotola capiente. anche il riso è cotto, trasferire nella ciotola con le verdure ed amalgamare bene, irrorare con un filo d'olio e servire. Riso basmati con piselli e carote, grazie e alla prossima ricetta! Riso basmati con piselli e carote, grazie e alla prossima ricetta!